Cosa ne ha spavuto? E' spavuto sui suspezzo! E' tenista via! E' spavuto sui suspezzo! E' spavuto sui suspezzo! No grazie no no è... No 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 è... No 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 è... No grazie no no è... Pona quittà! Violetti! Il Bistello è violetto! Pona quittà! Pona quittà! Pona quittà! Giorno! Pona quittà! Che cosa? Che cosa? Grazie a tutti.